Fermi tutti! Vi vorrei avvisare perché per quanto riguarda le teorie non ho idea se ne farò altre perché soprattutto dopo l'episodio 9 di oggi diciamo che un po' tutto il fulcro di Love Live Sunshine è stato sviscerato. C'è davvero poco penso attualmente di ignoto su cui poter teorizzare quindi non posso più assicurarvi una presenza costante per quanto riguarda le teorie. Detto ciò parliamo dell'episodio di oggi. Due paroline precise. Allora io veramente non mi sarei mai aspettato questa cosa da Kanan. Vi giuro che per tutte le cose assurde che ho potuto pensare non avrei mai e poi mai e poi mai pensato che avesse fatto apposta il fatto di non riuscire a cantare. Pensavo veramente fosse stato una cosa dovuta all'emozione. Non mi era proprio passato per l'anticamera della testa. E devo dire che veramente questo episodio oltre ad avermi fatto piangere mi ha colpito proprio perché io magari non è che sono un esperto di sceneggiatura. Però l'ho trovato veramente ben costruito e comunque non lo so ho la presunzione di dire che secondo me poche persone sarebbero aspettate una cosa del genere. Credo a parere mio che sia stato un bel colpo di scena. E' davvero insomma una puntata veramente bella che ha reso giustizia all'entrata del trio del terzo anno finalmente nelle agua. E non vi preoccupate arriverà la recensione anche su questo puntato ovviamente. Adesso voglio solo dire una cosa. Che sì, ho cannato alla grande il discorso su chi avesse scritto il nome sulla sabbia chiaramente. Però la frase di Kanan che parla come di Daia che comunque ha avuto questa attitudine da manipolatrice. Mi rende felice perché col video di Daia Mastermind vuol dire che mi ero avvicinato tanto così dal capire la verità. E onestamente ovviamente mi rode un po' perché durante il video teoria dell'episodio 3 avevo detto che era stata Mari. E poi nell'episodio 4 ho detto no ma Daia è la vera Mastermind. Però non ho fatto il passo in più di capire che era stata anche lei a scrivere la scritta. Però sono veramente comunque felice di questo traguardo. Diciamo ora spero che nei prossimi episodi ci siano magari che vengano rivelate altre informazioni di più su Daia ad esempio. che sia stata lei a dire qualcosa a Mari che l'ha spinta a tornare perché ancora sostanzialmente non sappiamo i motivi precisi che hanno fatto tornare Mari. Ne sappiamo se quella roba della scommessa, insomma del fatto che Daia avesse perso una sorta di scommessa e forse è entrata per questo nell'acqua, non sappiamo se verrà introdotta anche nell'anima o se resta una cosa che lascia il tempo che trova. C'è una cosa scritta lì nelle introduzioni perché sappiamo che comunque tutto quello che puoi appare nelle scan o da altre parti non è detto che poi trovi spazio anche nell'anima. Detto questo io vi saluto, era solo un brevissimo video giusto per appunto informarvi di quali saranno i miei programmi e cercherò di recuperare queste recensioni e vi lascio con i due secondi di clip che mi hanno fatto sentire tanto figlio. Ci ho pensato su e un solo nome mi è venuto in mente. Dai a Kurosawa, deve per forza esserci lei dietro tutto questo. Lei è il vero mastermind di Love Live Sunshine. Lei è il vero che non è venuto in mente.